Cari Lecchesi, leggendo i giornali di questa mattina e girando per le strade della città, mi sono accorto quanto grande sia il vostro interesse dimostrato nel primo turno della competizione elettorale. Mi sono state anche rivolte delle richieste di un confronto legittimo, chiaro e trasparente tra i candidati che andranno al ballottaggio. Pertanto mi permetto di domandare a Peppino Ciresa, che guida la coalizione avversaria, quella di centrodestra, la disponibilità ad un incontro. Un incontro trasparente, leale, come quelli che già abbiamo fatto nelle scorse settimane, centrato proprio sull'apprezzamento delle differenze che possiamo offrire all'elettorato lecchese. Peppino, scegli tu il posto, scegli il luogo, l'orario che ritieni. Insieme concorderemo il giornalista o gli esperti che potranno intervistarci e insieme credo che potremo dare una risposta agli elettori di Lecco, convincendogli a tornare a votare per il nostro secondo turno con grande consapevolezza e con quel grande amore che riservano per la loro città. Aspetto un tuo cenno di conferma. A presto!